Questa mattina sono state aperte le tre buste per la cessione del ramo di azienda del CSTP. Qual è stato l'esito? Due delle tre buste non sono state conforme al disciplinare, vale a dire non contenevano all'interno quelle che erano le richieste del bando della legge Prodi, che prevedono una serie di documentazioni tipo amministrativo, un'offerta, un progetto tecnico di sviluppo dell'azienda una volta acquisita la nuova azienda e terza busta l'offerta economica. Una delle buste conteneva solo un foglio, quindi non erano tre buste sigillate come richiedeva il disciplinare, un'altra conteneva una busta sigillata, ma era una e non tre, mentre la terza busta, quella del concorrente Bus Italia, aveva al proprio interno, così come previsto dal disciplinare, le tre buste sigillate. Abbiamo aperto la prima che conteneva la documentazione amministrativa, l'abbiamo verificata e conforme al disciplinare, nella documentazione amministrativa ovviamente ci stava tutto il dettaglio di quanto è richiesto dalla legge, non solo dal bando di gara. La seconda busta è stata aperta e conteneva il progetto tecnico, che adesso sarà esaminato dal sottoscritto e dai suoi consulenti. E la terza busta, quella economica, è che noi ci siamo riservati di aprire in seduta pubblica venerdì prossimo, venerdì 27 alle ore 10, sempre che questa busta abbia valore, nel senso che se l'offerta tecnica, cioè il progetto tecnico, non dovesse rispondere ai requisiti che io riterrò unitamente ai miei consulenti, siano di interesse dell'azienda, non passeremo all'apertura dell'offerta economica, altrimenti passeremo all'apertura dell'offerta economica e quindi comincerà la procedura di cessione dell'azienda.